Bentornati su MyFootballGersy. Continuiamo con le anticipazioni per la prossima stagione non ancora ufficiale, questa è la prima maglia del Manchester City per la stagione 2023-24 in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è bella! Nella mia classifica prende 3 stelle, sono molto indeciso se mi piace di più questa o quella dell'anno scorso. Voi cosa ne dite? Il costo lo vedete qui sopra? Molto vantaggioso se considerate anche che include le spese di spedizione. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate sul sito a vedere quali splendide maglie vi attendono. Ora vi lascio la parte finale, prima però regalateci un grande like e iscrivetevi al canale, è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player!